Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Prima di tutto volevo farvi gli auguri di un buon Natale e di un felice anno nuovo, anche se penso che prima di Capodanno un video uscirà. Infatti mercoledì avremo prima di tutto un video dove vi farò una top 5 delle funzioni nascoste su Xenoverse 2, dove non andrò a dire le cazzate ovvie come fanno tutti, ma parlerò dei file segreti del gioco, delle cose che si trovano dentro i file e che una persona normale non può vedere di solito. Inoltre venerdì uscirà un video su Dokkan Battle, in compagnia di quel Grinzosi di Alessio, chiamato dagli amici ora su Grinzosi, quindi mi raccomando scatenatevi nei commenti. A parte gli scherzi ragazzi, oggi vi ho preparato una piccola mod, anzi tre mod, con mosse nuove, Portrait Custom e ovviamente personaggio nuovo, dove abbiamo Goku e Vegeta e Gogeta con abiti natalizi. Gli abiti sono tutti gli stessi perché ci sarebbe stata tecnicamente una storia dietro, anche se non l'ho potuta portare, però pazienza. E niente ragazzi, vi lascio il video, questo è un video fatto comunque all'ultimo minuto, quindi non ci sarà un commentary, ma sono semplicemente delle clip, delle mod, che vi farò vedere appunto. A 350 like le rilascerò per tutti quanti, vi auguro ancora una volta buon Natale e noi ci vediamo alla fine del video. Buona visione! 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 Grazie a tutti. E niente ragazzoli, il video finisce qua. Fatemi sapere cosa ne pensate della mod e soprattutto del video qui sotto nei commenti. Mi scusa ancora se non vi ho potuto portare appunto il what if ma i motivi ve li ho già spiegati. E niente ragazzi, vi rinnovo ancora una volta gli auguri, vi invito a lasciare mi piace, commentare il video e condividerlo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Seguitemi se su Instagram sia su Facebook dove pubblicherò degli aggiornamenti e dei piccoli sondaggi riguardo al canale. Inoltre entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione. E vi ricordo che avete gli ultimi giorni per partecipare al contest dei 3000 iscritti. Quindi mi raccomando, partecipate, il 29 ci sarà l'estrazione e potrete vincere una richiesta per una mod gratis. Di solito si pagano 20€. Mi raccomando, raggiungiamo i 350 like per avere queste fantastiche mod. E noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella! Un saluto da Feraz, bella!